Ragazzi, benvenuti nel pack opening di Sbucci Chi avrò trovato oggi? Agüero, Viola, Messi normale, Ronaldo blu, Maradona, Pelé Chi avrò trovato? Adesso vi lascio il video e scopritelo dal soli PS, a fine video vedrete di nuovo la messa della salta arenaria Quindi se avete la clemenza di guardarlo tutto non vi perderete uno sketch indimenticabile Buona visione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua su FIFA in un pack opening Incredibile Sì, avevo detto che ne avrei fatti meno Perché comunque sia ogni pack opening mi costa circa una trentina d'euro Perché non sono cipre precise L'altra volta erano di più, questa volta sono di meno Ma ne cerco una quarantina d'euro di media Quindi comunque sia, sono soldi che levo a me Io fai il pack opening e vaffanculo Sì, io gli ho chiesto al sole perché volevo fare il figo E sì, sono vestito come nell'altro video del draft di FIFA Oppure sarò vestito così nel draft che uscirà settimana prossima Non so dirvelo Niente, perché non è che quando registro i video ragazzi Registro ogni giorno un video diverso Magari li sto registrando insieme Ho registrato prima il draft e poi questo Quindi è normale se è vestito così a volte Quindi non ditemi se sono sudici a alcuni video perché ho la stessa maglietta Magari ho registrato 7 minuti dopo Comunque adesso basta offendermi e andiamo subito a spacchettare come degli stronzi Ok ragazzi, 3255 points possono essere fattibili Quindi io vi dico già da adesso che anche se non trovassi niente Tanto apri il pacchetto Il video verrà caricato lo stesso Perché comunque è divertente vedermi sclerare o vedere se ho dei giocatori che costano tanto Si inizia bene devo dire No ma si inizia bene Ma risca Ma giocava quando ero piccolo Alaba Ci porterà fortuna Alaba Ci porterà fortuna Alaba O ci porterà un telar Alaba Allora ragazzi Antoine Griezmann ci porterà sicuramente qualcosa Ci porterà bedimons a me No La stucca Porca puttana Va bene Vabbè ci posso stare No Col cazzo Voglio il cuore forte Se no qui che si sta a fare Dai Alejandro e la casette Tutti i francesi sono oggi Tutti i francesi Van Dick Chi cazzo Ah ma li sto prendo con i soldi veri Oh mio dio Momento di silenzio Ce li ho ripresi Sicuramente Vabbè ragazzi Ci può stare un errore no? Sembra strano Vedere sempre a 3250 I soldi finti Ma adesso torniamo al momento di tristezza Musica triste Attenzione Nei mani amati Fa schifo Allora ragazzi No 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 Prima ci ha portato sfortuna perché eravamo con i crediti Ma quando si pagavano i big money Vedi che non ti danno un cazzo lo stesso Eh la gente ti dice Con il cash tra i soldi I giocatori forti Si si cassa vai Vieni vieni Aguero ti prego Ti prego Ti prego Ti prego me l'avevano già Lo spasmo di dire Qualcuno insomma di francese Un momento comunque L'ho aperto i soldi veri ma allora sono soldi finti Ma allora sono un po' stronzo Enrique andiamo Gianluzai Vabbè ragazzi comunque qualcuno troverò prima o poi Poi c'è Leo Messi che ci porta qualcuno Attenzione Stiamo scherzando Antonino Griezmann Sappiamo Che puoi fare Delle belle cose Non darci per favore Olic un'altra volta Che se no ti prendo E ti spacco tutte le osse Attenzione Ancora Leo Messi E se ci porta Olic Giuro che il pack opening finisce qua Ora Adesso Ecco Sarà bene Allora Antonino Griezmann Capiamoci Capiamoci Che mi ha già schiancato il cazzo Ma perchè non trovo nemmeno un rato Due 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 Argenti Due Non uno Due Argenti Dai ancora Griezmann Dai Griezmann Per favore Te lo chiedo per favore Che cazzo è Prendo la mia paghetta babbo Dammi i soldi della paghetta Li spendo in fio Per trovare i giocatori forti E trovo E trovo Lampard Che costa Mille Eh Vi rendete conto Yei Rovinate le paghette Di tantissimi bambini L'ho comprata Con i soldi finti Un'altra volta Basta ragazzi Gli occhiali sono essenziali Allora Ora mi è molto meglio Partiamo di aprire gli occhi Da uomo ad argentino Fammi trovare qualcosa di raro Mi interna per il culo Cioè Nemmeno un giocatore di merda raro Cioè Proprio la merda e basta Ma che cos'è Sembra un po' Ehi Dai Dai Cos'è Non è meno raro Ma dai Ma dai Ragazzi No Io ti guardo negli occhi E tu sai già cosa dovrai fare Lo sai già Lo sai già Io spero che costi una caterba di soldi Vediamo Insieme Settemila ragazzi Ce lo ripagavo un pacchetto Quando l'uomo con gli occhiali Trova Hernandez Se lo trova per strada Hernandez è un uomo morto Attenzione Alaba 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 Ho detto Vai ho trovato Messi Si col cazzo Ho trovato Messi Col cazzo Dai Griezmann Per favore Per favore Si è anche buggato tutto Si si Hai buggato tutto Cos'hai dentro Un demonio Spero No Un non raro Elena Ah no Elana Possiamo entrare negli ultimi sei pacchetti circa E Enrichini mi devi portare qualcosa Un raro Un raro Che costa Zero Bene Tutti Lascia fare Però mille redditi Si gran cazzi Ma va trappiando al culo Quanto deve casciare Ditemi quanto deve casciare Uno Per fare dei crediti a questo gioco Tanti Ho scartato tutti Anche Il stile intesa ombra Che costa tipo 3000 Che intelligente che sono Alaba Ragazzi Questo non è un gioco di bravura Ma di pazienza Che è diverso Alaba sei in tutti noi Alaba io sto aspettando solo te Che mi spiattelli in faccia Un bel raro Bravo Così ti voglio Alaba E' l'ultimo pacchetto da 7500 E lo sai anche tu Attenzione Speravo Mi ha fatto Mi ha fatto Che ragazzi Abbiamo ancora un pacchetto da 5000 Però da aprire Da non sottovalutare Perché potremmo trovare Lui Il grandissimo raggi Attenzione Abate Forse Vale più di un pacchetto da 5000 No Manco per il cazzo Ok ok Tutti simpatici siete Quando ci avete con me Ho ancora i miei crediti Oramai sto sputtanando E continua a sputtanarli Il primo dei 4 pacchetti Vedrà Presente Il nostro fortissimo Sanchez Alexis No Lui è Carlos Patatine San Carlos Attenzione Messi Grande Bella giocata Messi Bella giocata di merda Ci porto un cazzo Gli ultimi due pacchetti ragazzi Sono rimasti Io ve lo dico Gli ultimi due 1300 Precisi ragazzi Precisi È un segno La casetta è un segno Guarda Lascio il pad qua E mi alzo Mi alzo Pronto a prendere in mano la sedia E spaccarla Nella tua faccia La spacco Nella tua faccia Ecco Spacca la Manneggia la Puttana Perché ogni volta Faccio un video di ciò Devo finire a registrare Il video in pieno Guardate Uh Epico Durante un po' Ragazzi I video di ciò Saranno registrati Comodo Non si rivolta più Ragazzi 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 L'ho incastrato Oh Oh Ragazzi Ok ragazzi Ce l'ho fatta Quindi L'ultimo che Non cazzo L'ultimo che Non cazzo Mi dispiace Però io avevo Quei soldi E basta Quindi Anche volendo Non potevo Spendere di più Ho speso tutto I risparmi di fifa I risparmi Nel portafoglio Non ho più nemmeno Un euro Quindi Il pacco Quelli incunisceva Volevo devi lasciare Un bel mi piace Di commentare il video Di condividerlo Se vi ho fatto ridere Nella mia sfortuna E spero di farvi ridere Anche Sempre Quindi Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Alle 3.30 Per oggi è tutto Ciao Nini Ciao Nini Ciao Nini Ciao Nini